Più di 400.000 appuntamenti negli ultimi 5 anni per tutela e assistenza hanno visto la CGL provinciale a supporto dei lavoratori che si sono affidati a loro. Il sindacato sta rappresentando sempre più un punto di riferimento e su tematiche attuali come pensioni, disoccupazione, consulenze e congedi verrà fatto il punto il 12 e 13 gennaio in occasione del X Congresso a Trebbia Antico tra le storiche mura di Villa Catani-Stewart. Il congresso ci serve per rivedere quello che abbiamo fatto in questi 4 anni di mandato, per vedere anche le criticità e migliorare quello che non abbiamo fatto bene e valorizzare quello che invece siamo riusciti a fare e poi per ovviamente ridettare le nostre linee politiche per altri 4 anni. Sono due giorni, iniziamo il 12 pomeriggio e le persone che parteciperanno saranno 160 delegati, una bella platea importante più ovviamente una cinquantina di invitati. Il secondo giorno poi alla fine dei vari interventi, dei vari lavori congressuali, adempimenti congressuali verrà eletto prima l'Assemblea Generale che eleggerà poi il nuovo segretario generale. Un ruolo che da 4 anni è ricoperto da Roberto Rossini, unico candidato a queste elezioni per continuare a vestire i panni del segretario generale CGL per Pesaro Urbino. Futuro segretario sul congresso, all'Assemblea Generale che nascerà al congresso, deciderà di riaffierarmi questo importante onore per me, questo ruolo. Io sono a disposizione, come si dice in questi casi. In costante crescita per la CGL provinciale sono gli iscritti, arrivati nel 2021 a quasi 47 mila. Spesso iscriversi ad un sindacato può risultare scomodo e rischioso per il dipendente nei confronti del datore di lavoro. Rischio che però, per essere sensato, deve essere direttamente proporzionale alla posizione del lavoratore. Il rischio è direttamente proporzionale alla condizione personale di quel lavoratore. E' chiaro che, come dire, se sei un lavoratore precario e non sai se ti rinnovano il contratto o ogni due settimane ti rinnovano un contratto, è chiaro che ti fai dei problemi. Magari non ci sono, non sto dicendo che necessariamente ci devono essere. Però, diciamo così, quella condizione non porta quel lavoratore a iscriversi molto serenamente a qualsiasi organizzazione sindacale. Stessa cosa avviene se hai un contratto a tempo determinato. E' molto più facile farlo con lavoratori appunto stabili, che hanno un rapporto di lavoro stabile e tanto più in una realtà aziendale dove il rapporto tra azienda e organizzazioni sindacali rientra nei canoni di quello che dovrebbe essere e che è normale che sia in un mondo, in una nazione come la nostra, il rapporto con le organizzazioni sindacali. In crescita anche il continuo contatto con i lavoratori, specialmente nel lungo periodo del 2020, dettato dal lockdown, in cui è prevalso l'utilizzo di procedure online e telefoniche. Procedure che continuano ad essere condotte non solo con lavoratori o lavoratrici dipendenti. Non solo le persone che si rivolgono a noi, sono tantissime, non solo lavoratori e lavoratrici dipendenti, ma anche tante pensionate e pensionati. Abbiamo anche un ufficio, una struttura che si occupa della tutela delle partite IVA. Abbiamo degli uffici che seguono le assistenti domestiche e familiari e diciamo che la gamma di persone che si rivolge a noi è molto varia ed in questi anni è stata anche molto in crescita. La fascia di età principale che si rivolge ai sindacati, e in questo caso alla CGL provinciale, va dai 30 ai 50 anni e riguarda principalmente la sfera del precariato. Grazie. Grazie.